Cos'è il Bitcoin e come funziona? Ebbene, iniziamo dicendo che il Bitcoin è una moneta, ma non è fatta di metallo o di carta come le banconote, anzi, fisicamente proprio non esiste, nel senso che è una moneta solo ed esclusivamente digitale, virtuale, elettronica, che esiste solo su internet. Però è una moneta a tutti gli effetti. Quindi non ci sono pezzi in metallo da 1 o 2 Bitcoin, come gli euro, oppure banconote da 50 o 100 Bitcoin. È tutto solo ed esclusivamente virtuale. E infatti questa moneta si può usare solo su internet. Insomma, non esistono versioni cartacee o in metallo dei Bitcoin, ma i Bitcoin sono solo dei numeri che esistono online. Ma online dove per la precisione? Ebbene, i Bitcoin stanno sulla cosiddetta blockchain, cioè un registro pubblico e distribuito online a cui si può accedere con degli appositi software che si chiamano wallet. Quindi un wallet è un programma informatico che consente di accedere e di gestire i propri Bitcoin sulla blockchain. Se non hai un wallet, non puoi avere Bitcoin. Wallet è una parola inglese che significa portafoglio, però nel caso del Bitcoin non contiene euro, ma contiene per l'appunto Bitcoin. Grazie al wallet puoi ricevere e inviare Bitcoin da e verso altri wallet, tuoi oppure di qualcun altro. L'invio è facile, relativamente veloce e abbastanza economico. In realtà non è proprio velocissimo, nel senso che servono almeno circa 10 minuti e attualmente non è molto economico perché purtroppo ci sono delle commissioni, delle spese un pochettino elevate, però molto probabilmente in un prossimo futuro diventerà molto più veloce e molto più economico. Tieni presente che i bonifici bancari, ad esempio, costano 1€ e richiedono 1-2 giorni per arrivare a destinazione, anche se attualmente hanno attivato il cosiddetto bonifico istantaneo che dovrebbe arrivare in 10 secondi. Mentre invece Paypal, ad esempio, è immediato, però costa il 3%. Ma c'è un'altra cosa molto importante da sapere sui Bitcoin. Infatti i wallet sono anonimi. Che cosa significa? Significa che quando scarichi e installi il software o l'app con cui gestisci il tuo wallet non devi inserire il tuo nome e cognome. Anzi, ogni wallet ha solamente un codice identificativo abbastanza complesso e basta avere quel codice per poterlo utilizzare. Quindi nel momento in cui usate un wallet l'unica cosa che è conosciuta è questo indirizzo, questo codice del vostro wallet ma non il vostro nome e cognome. Quindi le vostre operazioni che eseguirete saranno tutte registrate pubblicamente sulla blockchain ma non ci sarà mai scritto il vostro nome e cognome ma semplicemente questo codice. Ovviamente se qualcuno conosce quel codice può risalire alle vostre operazioni. Perché si è scelta questa tecnologia? Perché chi ha creato il Bitcoin fondamentalmente voleva creare un'alternativa al contante che è per l'appunto anonimo, nessuno di noi infatti scrive il proprio nome e cognome sulle banconote. Quindi il Bitcoin è praticamente del denaro contante virtuale e i pagamenti per l'appunto sono anonimi. Certo l'anonimato favorisce in qualche modo l'utilizzo del Bitcoin per pagamenti diciamo così al borderline, al limite del lecito però ricordate che la stessa cosa vale per le banconote in euro. Inoltre essendo che tutte le transazioni in Bitcoin sono pubbliche sebbene anonime non è poi così facile nasconderle. Il Bitcoin è nato nel 2009 e da un po' di tempo a questa parte sempre più persone li stanno accettando come mezzo di pagamento. Quindi nel momento in cui è possibile usarli per pagare qualche cosa ebbene sono da considerare una moneta a tutti gli effetti regolarmente accettata. E praticamente oramai un po' in tutto il mondo c'è chi accetta pagamenti in Bitcoin quindi possiamo dire che Bitcoin è una moneta accettata in tutto il mondo anche se non da tutti. Infatti un'altra particolarità del Bitcoin è che non esiste una banca centrale che lo emette. Ad esempio per l'euro c'è la banca centrale europea per il dollaro c'è la Federal Reserve americana. Ebbene invece per il Bitcoin è l'intero sistema di tutti i nodi della rete Bitcoin del mondo collegati a internet a emetterli con un processo crittografico decisamente un po' troppo complesso per potervelo spiegare in questo video. Quindi non essendo legato ad alcuna banca centrale né ad alcuno Stato in particolare non si è obbligati ad accettarlo ed usarlo. In poche parole ognuno può decidere liberamente se usarlo o meno. Quindi se volete pagare qualche cosa in Bitcoin dovete prima chiedere al destinatario se la accetta come moneta perché lui potrebbe benissimo dirvi di no. Ma quanto vale un Bitcoin? Infatti dovete sapere che non esiste un rapporto diretto tra euro e Bitcoin o Bitcoin e dollaro. Invece il tasso di cambio lo fa solo ed esclusivamente il mercato cioè la legge della domanda e dell'offerta ed è molto volatile, cambia praticamente di giorno in giorno anzi di ora in ora oppure addirittura di minuto in minuto. Esiste però un sito internet di riferimento per il cambio e si chiama coinmarketcap.com Potrete trovare sia la quotazione del Bitcoin aggiornata in tempo reale in dollari ma trovate anche molte altre informazioni ad esempio riguardo il numero di Bitcoin in circolazione i volumi di scambio, le piattaforme che si usano eccetera eccetera eccetera. A questo punto potreste domandarvi sì, ma come si usano questi Bitcoin? E come ce li si procura? Ebbene, sappiate che per questo ho realizzato altri video che rispondono a queste domande che troverete semplicemente sul mio canale YouTube. Inoltre dovete sapere che ogni giorno vengono emessi in rete nuovi Bitcoin distribuiti ai cosiddetti miners ovvero persone che con una strumentazione apposita cercano di estrarre questi Bitcoin appena emessi. Questa attività si chiama minare Bitcoin e anche su questo ho fatto un altro video che potete trovare sul mio canale YouTube. Questa brevissima guida è finita come avrete capito se volete approfondire potete andare a guardare altri video che io ho fatto su altri argomenti che riguardano sempre il Bitcoin o in alternativa potete scrivermi via email se avete delle domande e io sarò lieto di rispondervi. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!